E' arrivato a conclusione il procedimento disciplinare avviato dall'ufficio competente del Comune di Solmona in relazione all'indagine che la Guardia di Finanza aveva avviato nel 2016 su false attestazioni di presenza in servizio del personale dell'ente. La vicenda dei presunti furbetti che fece molto discutere l'opinione pubblica. Il sindaco di Solmona ha proprio fatto un comunicato, si tratta di un giorno importante per la città perché, ha detto il primo cittadino e adesso ce lo confermerà, finalmente possiamo scrivere la parola a fine su una vicenda complessa, delicata e dolorosa che ha riguardato un po' tutti noi. Sì, finalmente è stata fatta chiarezza in una vicenda che ormai da quasi tre anni ha coinvolto la macchina amministrativa del Comune di Solmona. Le indagini che sono state portate avanti dall'ufficio del procedimento disciplinare, anche in raccordo con la procura e avendo raccolto anche le memorie difensive delle persone coinvolte, oggi finalmente ha fatto piena luce differenziando le singole responsabilità e quindi anche riportando un po' la vicenda in una dimensione di normalità perché proprio a nord del vero la maggior parte delle posizioni si sono rivelate di irregolarità lievi. Le più attenzionate, che sono quelle che poi coincidono un po' con i risultati delle indagini della procura, oggi hanno avuto le sanzioni più pesanti. Questo porta anche a ripristinare l'onore e la credibilità di tutti quei dipendenti che comunque in questi anni hanno svolto il loro lavoro con onestà e senso di responsabilità. Speriamo che da domani si possa riprendere a lavorare per il bene della città con un nuovo entusiasmo e una nuova motivazione. Lei prima ha detto che chi sbaglia deve pagare naturalmente, ma in questa vicenda è stato molto forte anche l'aspetto umano. Sicuramente sì, ricordiamo che comunque sono stati coinvolti diverse decine di lavoratori del comparto complessivo. Il fatto che comunque questo chiarimento si sia realizzato soltanto dopo tre anni ha di fatto allungato una fase di incertezza che sicuramente non ha giovato anche da un punto di vista psicologico a tanti lavoratori, che devo ricordarlo, a onor del vero in questo periodo di tempo non si sono mai fermati. Ha voluto ringraziare il segretario generale Nunzia Buccelli per il lavoro fatto? Sì, l'ufficio del procedimento disciplinare nella persona appunto del segretario generale ha svolto veramente un lavoro attento, puntuale, con grande correttezza.